ed è per me non è vero un grandissimo amico è timido no, grazie amico papà papà pezzo pavì divite il maestro divite il maestro divite il maestro ubinare Uido N'erody cavolo il un momento un momento un momento il momento un metro in silenzio, il maestro vuole, vuole... il maestro deve entrare alle pistole la cantone che non deve fare, lei deve dichiarare qualcosa che vuole proporre il maestro deve dichiarare, se siete in due maestri dovete fare qualcosa di più lo sento bene, lo sento, lo sento bene, vedete il microfono lo senti, lo senti, lo senti prova uno, prova tre, prova, 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 prova prova, prova, prova provano, lo senti, lo sento, lo senti con l'aestro dai metti vicino, che non siente non potete, non potete come in campo con il sangue non Non è di sorpre, ma non è di sorpre, ma non è di sorpre. Non è di sorpre, ma non è di sorpre.